Giorni decisivi per la riapertura del sottopasso di Via Torino a Ponte Cagnano-Faiano. È previsto per oggi infatti l'incontro fra Rete Ferroviaria Italiana ed Enel per cercare di dirimere la questione relativa all'attivazione dell'ormai celeberrima cabina elettrica a servizio dell'Opera, chiamata a garantire il corretto funzionamento delle pompe idriche e non ancora messe in funzione da Enel distribuzione, nonostante l'ultimatum del sindaco datato 20 dicembre. L'incontro e la speranza dell'amministrazione comunale dovrebbe mettere la parola fine su una telenovela che dura da troppi mesi ed avviare l'iter per la riapertura al traffico del sottopasso.